Dopo cinque anni arriva la condanna definitiva per Veronica Panarello. La Cassazione ha infatti confermato la condanna a 30 anni di carcere per la donna accusata dell'omicidio del figlio Loris Stival, trovato morto in un canalone a Santa Croce Camerina il 29 novembre 2014. La Corte della prima sezione penale della Cassazione, preseduta da Adriano Iasillo dopo diverse ore di Camera di Consiglio, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputata attualmente detenuta nel carcere Le Vallette di Torino. Veronica Panarello era stata condannata a 30 anni già in primo grado dal GUP di Ragusa per l'omicidio e l'occultamento di cadavere del figlioletto, del quale denunciò la scomparse che venne ritrovato morto dopo qualche ora in un canale. Condanna poi confermata anche in appello a Catania a incastrare l'allora 26enne un video della telecamera di videosorveglianza che smentiva il racconto di Veronica che quella mattina non accompagnò il figlio Loris a scuola, uccidendolo invece con le sue stesse mani strangolato con una fascetta da elettricista. Finalmente è finita. Questo il commento di David Stival, padre di Loris, che ha scelto di non essere presente in aula alla notizia della sentenza della Cassazione. La giustizia oggi ha commentato Daniele Scrofani, legale di Stival, mette un punto definitivo su questa tragica e drammatica vicenda. È stata la madre a uccidere Loris, adesso bisogna pensare al futuro. Il difensore di Veronica Panarello, Francesco Villardita, che ha affermato che si aspettavano questa sentenza, non esclude però nuove azioni per riaprire il caso. Ci rimane una grande amarezza e una grande rabbia perché abbiamo fatto di tutto e più di quello che potevamo fare e non siamo riusciti a fornire evidentemente la prova di ciò che abbiamo da sempre sostenuto. Ci rimane questa grande amarezza ma ci consola comunque che abbiamo fatto fino in fondo il nostro lavoro. Se volessimo dire oggi che abbiamo messo la parola fine a questa tristissima vicenda processuale io dico che non l'abbiamo ancora messa la parola fine. Ci potrebbero essere nuovi elementi che potrebbero eventualmente consentire una riapertura o un ricorso per revisione. Ma la vicenda giudiziaria per Veronica Panarello che ha preso la sentenza della Cassazione dalla TV in carcere non termina qui. Nei suoi confronti infatti sono pendenti altri due processi. Il 26 novembre dovrà apparire davanti il tribunale di Ragusa per calunnia nei confronti dell'ex suocero Andrea Stival che ha accusato di essere l'autore materiale del delitto. Nella sua ultima ricostruzione la Panarello afferma che il suocero avrebbe ucciso il nipote perché Loris voleva rivelare al padre di una presunta relazione tra il nonno e la madre. Mentre il 24 gennaio prossimo davanti al tribunale monocratico di Catania comincerà il processo per le minacce di morte che la donna ha rivolto sempre all'ex suocero a conclusione della lettura della sentenza con cui la Corte d'Assise d'Appello di Catania confermava quella di primo grado emessa dal GUP di Ragusa per il delitto commesso il 29 novembre 2014 a Santa Croce Camerina.